GELATO O PASTICCERIA E' l'unica vetrina capace di modificare temperatura, piani e mensole in qualsiasi momento e in pochissimi minuti, dal gelato alla pasticceria. La nuova vetrina 365 proposta da Orion è progettata per essere utilizzata a pieno regime tutto l'anno, secondo il mutare delle esigenze. La costruzione modulare in vetro e acciaio e la programmazione della temperatura consentono di scegliere liberamente cosa esporre e come. In questo modo è possibile passare dal gelato alla pasticceria in qualsiasi momento in modo semplice e veloce. Le caratteristiche costruttive della vetrina le consentono di essere estremamente flessibile e sempre elegante. Sono sufficienti pochi, semplici gesti per cambiare configurazione. Dopo aver estratto le vaschette gelato, basta appoggiare i vari ripiani negli appositi alloggiamenti. Infine, un semplice comando touchscreen pensa al resto. Le mensole mobili, che per il gelato erano posizionate in alto per non intralciare il lavoro e lasciare visibilità al cliente, ora si abbassano all'altezza prestabilita, per essere usate come piani espositivi. Contemporaneamente, la temperatura si porta automaticamente ai valori adatti alla nuova tipologia merceologica. La struttura refrigerante, infatti, utilizza un innovativo sistema che consente il passaggio da meno 18 a più 5 in modo automatico e in pochi minuti. Anche l'illuminazione è di nuova generazione. File di luci a LED per tutta la lunghezza dei piani illuminano la vetrina e il prodotto sottostante. Le vaschette per la gelateria possono essere anche trasparenti. Una scelta estetica innovativa, che permette di vedere i colori dei diversi gusti di gelato. Ogni modulo della vetrina può essere programmato con la temperatura giusta attraverso una plancia di comandi touchscreen, intuitiva e facile da usare. Oltre al comando per il cambio di configurazione, il pannello gestisce tutto il sistema. Luce, ventole, allarmi, autodiagnosi e un comodo monitoraggio delle temperature con grafico temporale. Versatilità nelle temperature e flessibilità nella disposizione. Tutto questo è 365. Da oggi non si è più vincolati alle scelte iniziali. Basta decidere la metratura e le forme. A voi la libertà di cambiare. Al resto ci pensa 365. A voi la libertà di cambiare.